Con Alberto Ciro, governatore del Piemonte, ho detto nelle interviste precedenti che da sabato il Piemonte non è zona gialla ma è zona rosa. Beh, zona rosa sicuramente, poi speriamo di diventare zona bianca quando la zona rosa se ne sia andata, anche perché questi sono momenti belli, importanti, dobbiamo viverli con la consapevolezza che stiamo ripartendo ma ci vuole ancora tanta prudenza e quindi il mio è un invito sempre a tutti quanti a mantenere le distanze, mantenere la mascherina perché questi momenti possono essere vissuti ugualmente bene però con molta molta attenzione. Allora, De Uomo del Territorio, quanto fa piacere vedere Canale, questa diciamo così grande città tra virgolette derroero colorata di rosa che accoglie questa grande corsa, quale può essere l'emozione? Beh, l'emozione per me che sono figlio di questa terra è proprio quella di aver portato il giro a casa, nel senso che io volevo che il giro partisse da Torino, dal Piemonte, perché era il miglior segnale che potevamo dare che il Piemonte c'è pronto ed è attrattivo e poi da Albese, quindi figlio di Langeroero, il fatto che per la prima volta nella storia Canale fosse sede di tappa era anche un segno di grande attenzione alla capitale del vino, perché questa è una capitale del vino al pari di Barolo, siamo non in Langa ma siamo nel Roero e poi c'è un'amministrazione con il sindaco Facenda estremamente dinamica ed efficace che ha saputo cogliere al volo questa opportunità. Per chiudere, Presidente, il biglietto da visita oggi e speriamo anche nelle prossime tappe, Filippo Ganna, Piemontese Maglia Rosa. Beh, incrociamo le dita, sono molto emozionato da quello che sta accadendo a livello sportivo e quindi faccio il tifo, ma davvero con dita incrociate e soprattutto con grande rispetto verso la fatica che c'è dietro questi corridori, l'impegno, la passione, questi sono valori importanti che dobbiamo trasmettere ai figli.